Buongiorno a tutti cari amici elettronauti oggi siamo alla resa dei conti sì perché finalmente possiamo provare su strada su una strada vera Citroen e C3 questo video sarà diviso in capitoli quindi se volete passare subito alle impressioni di guida vi lascio il minuto giusto qui così che possiate passarci direttamente e vi dico già subito che avremo la possibilità di provare su strada solo la versione Max la versione U invece la vediamo domani mattina però solo statica purtroppo partiamo prima dalle caratteristiche tecniche quest'auto ha una batteria da 44 kilowattora litio ferro fosfato trazione anteriore con un motore capace di sviluppare 113 cavalli di picco ed in ciclo VLTP riusciremo a fare almeno 320 chilometri il ciclo VLTP è un ciclo combinato calcolato su una temperatura di 23 gradi in un ambiente chiuso e controllato con il climatizzatore spento gli ingegneri poi mantengono varie velocità per tot tempo queste velocità vengono mantenute per provare l'auto in diversi contesti quindi urbano extraurbano eccetera nasce per un ambiente cittadino quindi si suppone riesca a fare almeno 440 chilometri se vi interessa sapere quanto consuma beh lo scoprirete alla fine perché lo scoprirò anche io alla fine c'erano diverse possibilità di percorso tra cui scegliere io ho scelto quella più lunga quella da due ore e 40 minuti proprio per viverla un pochino di più ma partiamo dall'inizio citroen crede in questo progetto veramente tantissimo infatti ha trasformato la sua auto più venduta la citroen c3 che ha fatto più di 6 milioni di veicoli in una nuova veste completamente rivista infatti questa si può dire che sia un piccolo sub vettino compatto per la città infatti abbiamo una guida un pochino più alta e più comoda non so effettivamente quanto sia più alta da terra rispetto alla c3 normale quella che è stata venduta fino a quest'anno però vi devo dire che non è male qui davanti troviamo la nuova firma luminosa il nuovo logo centrale e anche tutta la parte più aerodinamica del veicolo infatti abbiamo anche alcune prese d'aria qui davanti che bello vedere che siano effettivamente delle prese d'aria aperte tante hanno delle prese d'aria di solo estetiche chiuse come vedete io diciamo che l'ho spinta anche un po in off road e devo dire che è una bellezza da guidare e poi ho anche notato con piacere qui dietro abbiamo un freno a disco ora io non è che sia per forza contro il freno a tamburo dietro però qui abbiamo un freno a disco snoccioliamo subito un paio di dati riguardo ai prezzi perché dato che siamo in momento incentivi statali anche il prezzo su un'auto di questo genere è importante infatti qui citroen attacca il mercato con un prezzo di lancio di 23.800 euro questa versione che vediamo qui però è la max che ha un prezzo di 28.400 ovviamente ancora da incentivare quindi potreste sottrarre da 6.000 fino a 13.750 euro e la cosa non è affatto da sottovalutare continuando con la parte estetica qui troviamo il colore rosso con il tetto a contrasto di colore nero i vetri posteriori sono scuriti e abbiamo anche queste appendici colorate che possono essere cambiate a piacimento per il resto le due versioni differiscono anche per quanto riguarda i cerchi che sono da 16 o da 17 come primo impianto la max monta delle good ear 205 per 50 r 17 e se volete sapere anche l'indice di velocità è il 93v nella versione base abbiamo dei cerchi un pochino meno pregiati da 16 pollici con delle borchie aero che si possono togliere e mettere ovviamente abbiamo il faro full led sia davanti che dietro e un aspetto molto importante è che tra le due versioni non cambiano né motore né batteria né sospensioni quindi avranno sempre tutte e due un motore da 113 cavalli 44 kilowattora lfp di batteria ricarica rapida da 100 kilowatt in dc e da 7,4 in ac e sospensioni advanced comfort delle sospensioni ne parliamo dopo perché c'è da dire la versione max ha anche la telecamera posteriore nella versione u invece avremo solo i sensori di parcheggio posteriori perché perché manca il display centrale per quanto riguarda il baule no non è elettroattuato in nessuna delle due versioni ma devo dire che è molto capiente se non mi sbaglio siamo sui 400 litri l'unica cosa proprio non perfetta del baule è che non è piatto ma c'è uno scalino di circa 20 centimetri però diciamo che così almeno c'è più spazio poi abbiamo anche un piccolo doppio fondo dove però ci sta praticamente solo il kit di emergenza sì perché il ruotino non ce l'abbiamo per quanto riguarda poi i sedili nella versione max sono sezionabili 60 40 nella versione u invece no nel senso che sì sono ribaltabili ma è praticamente un unico sedile tipo un divanetto per quanto riguarda lo spazio per chi sta seduto qui dietro direi che è abbastanza devo dire poi buono anche lo spazio per i piedi e anche l'inclinazione dei sedili è buona i sedili nella versione max sono un pochino più morbidi vanno ad utilizzare diciamo una foam molto più morbida e confortevole quelli della versione u ancora non ho potuto provarli abbiamo poi due set di isofix qui dietro con un aggancio intelligente e per completare a livello multimediale abbiamo due porte usb c e un outlet a 12 volt tutti e tre i poggiatesta qui dietro sono regolabili in altezza però peccato che anche nella versione max il sedile centrale non possa essere reclinato in modo tale magari da diventare anche un poggiabraccio e a proposito di poggiabraccio qui centralmente ne abbiamo uno ma solo nella versione max che può scorrere avanti indietro oltretutto poi li troviamo il caricabatterie wireless del telefono qui centralmente il cambio poi il freno di stazionamento ovviamente elettronico e una porta usb c e per quanto riguarda a livello multimediale abbiamo un'altra porta usb c qui che possiamo usare anche per ricaricare il nostro telefono o collegarlo ad apple carplay android auto che comunque è anche wireless in questo caso abbiamo un set di musica che citroen ci ha preparato perché sì l'impianto audio è notevole ma ne parliamo dopo per quanto riguarda poi qui dentro nel poggiabraccio sì c'è spazio però diciamo che non c'è nessuna porta o niente di particolare per quanto riguarda la portiera è quasi completamente in plastica devo dire che però comunque è un materiale di buona fattura non è la solita plastica super croccante qui però poi abbiamo tutta una parte comunque in pelle con anche alcune scritte personalizzate come ad esempio questa have fun be happy feel good e be cool e subito sotto il porta bottiglie nella versione max poi abbiamo anche i finestrini regolabili elettronicamente nella versione you solo quelli davanti quelli posteriori no e se ve lo state domandando beh scendono quasi completamente e questa cosa non è da sottovalutare sono molto curioso di vedere la versione you come messa per quanto riguarda poi l'interno qui della portiera del porta oggetti purtroppo non è floccata molto bello però il fatto che sia di un colore differente la fa sembrare un pochino meno pesante per quanto riguarda la strumentazione di bordo devo dire che il nuovo head up display che poi non è un head up display ma è semplicemente un display lì in orizzontale lungo circa una ventina di pollici non è male si trovano tutte le informazioni diciamo molto precise poche ma utili per quanto riguarda poi il sistema infotainment devo dire che è veramente molto basic ma secondo me è decisamente rapido buonissima l'integrazione con apple carplay purtroppo android non l'ho potuto provare perché non ha un telefono android per quanto riguarda invece il sistema operativo nativo dell'auto si presenta così questa è la home page adesso proviamo a smanettarlo un po giusto per farvi capire come è messo questo è il sistema di navigazione con una navigazione che è in italiano e mi è già stata diciamo preimpostata per dove io devo andare per quanto riguarda poi la gestione della musica troviamo le immagini di copertina buonissimo diciamo come risponde il sistema qui sulla destra del display è disponibile sempre il pulsante più o meno per gestire il volume perché effettivamente se il passeggero dovesse voler alzare abbassare il volume o mettere muto o spegnere il display lo può fare direttamente da lì ed è disponibile sia la connessione wifi che la connessione in bluetooth un aspetto molto importante da dire è che questo display qui centrale nella versione u manca avremo modo di collegare il nostro smartphone lì centralmente una domanda che mi fate molto spesso ragazzi riguarda però l'impianto audio ecco l'impianto audio comunque c'è e potete collegarlo tramite bluetooth al vostro cellulare così ovviamente potrete ascoltare la vostra musica per quanto riguarda poi il sistema di climatizzazione eccolo qui centralmente sotto le bocchette da reazione con anche il pulsante hazard e la chiusura centralizzata che sono proprio sotto il display che notare è un pochino a sbalzo impianto di climatizzazione devo dire funzionale non mi ha dato alcun problema ecco ritornando alla questione portiere una cosa che non mi è piaciuta tantissimo è questa vite qui a vista avrei preferito che fosse nascosta con un tappino di plastica ad esempio e un'altra cosa che non ho amato particolarmente è la chiave sì perché c'è una piccola chiave e come al solito dovremo inserire e girare per dare diciamo il via al motore per quanto riguarda la versione elettrica infatti questa cosa non ha assolutamente senso sarebbe bastato un pulsante di start e stop su instagram l'altro giorno vi avevo chiesto quali fossero le cose che avreste voluto vedere su quest'auto e una di queste era la questione keyless no non è keyless in effetti da qualche parte bisognava risparmiare per fare un prezzo così allettante e anche se è prevista una versione termica un 1200 ad un prezzo ovviamente più basso dell'elettrico oggi l'abbiamo a disposizione ma io non la proverò e qui la dirigenza citron ma come non provi l'elettrico perché c'è sicuramente tanto da dire ah e se ve lo state domandando no non c'è un franc ma non ci sarebbe neanche stato abbastanza spazio perché infatti tutta la parte elettronica è proprio qui sopra qui abbiamo inverter e il motore poco più sotto vari tubi eccetera non c'era spazio per un franc abbastanza capiente e quindi non l'hanno fatto però devo dire che sono già in contatto con un'azienda che forse potrebbe andare a svilupparci qualcosa molto presto questa è una piattaforma su cui citroen come dicevo prima ha già un pochino di esperienza perché sono tre anni che viene venduta in india e in sud america e infatti se andate sul sito citroen.in potete vedere anche la versione indiana che comunque differisce completamente dalla versione europea ho fatto cadere la chiave sia per esterni che per interni diciamo che però citroen ci ha fatto un pochino di esperienza ah e dimenticavo ragazzi l'auto è completamente prodotta in europa su batteria e parte elettronica ovviamente abbiamo otto anni di garanzia. Ah è giusto un appunto sul tagliando il tagliando non ne sono sicuro al 100% ma ho parlato con alcuni concessionari in questi giorni mi hanno confermato tutti i 70 euro all'anno vanno a cambiare praticamente il filtro dell'aria condizionata a controllare liquidi vari quindi liquidi per tergicristalli eccetera eccetera e poi controllano anche che siano stati effettuati tutti gli aggiornamenti di sistema. Per quanto poi riguarda le consegne le prime ad essere consegnate saranno probabilmente verso fine estate. A corredo ovviamente di entrambe le versioni citroen vi darà anche gratuitamente i route che è un'applicazione che vi permette di andare a trovare tutte le colonnine intorno a voi e vi darà anche la possibilità di pianificare un viaggio con tutte le varie soste. Si connetterà direttamente al veicolo e sarà possibile andare appunto a controllare il suo stato di carica e in base a quello riuscirà ad indicarvi dove fermarvi e potrete anche scegliere la vostra colonnina preferita e quale abbonamento andare ad utilizzare se ne avete. Se volessimo affrontare il discorso di quanto costa ricaricare quest'auto beh quest'auto a 44 kilowattora se possiamo immaginare dato che il PUN ora è decisamente basso una ricarica a casa in box di tutta la batteria più o meno vi potrebbe costare 15 centesimi al kilowattora con 6 euro vi fate 320 chilometri o forse di più. Se poi ovviamente fate oltre 320 chilometri al giorno e dovete ricaricare fuori beh quello è un altro discorso ma potreste trovare comunque una ricarica in dc a 45 centesimi o 65. Si sto proprio parlando dei supercharger tesla che sono aperti a tutti li potete utilizzare e hanno un uptime di 99,97 per cento quindi andate sul sicuro. Poi comunque se state attenti online potrete trovare tante offerte diverse salta fuori un operatore nuovo ogni settimana praticamente i prezzi continuano a variare si fanno un pochino la guerra l'un l'altro diciamo. Giusto per completare la questione ricarica come vedete qui abbiamo una porta di ricarica ccs2 combo perché sì esatto abbiamo una ricarica in dc molto importante su entrambe le versioni quindi sia quella da 23 mila euro sia quella da 28 mila euro entrambe riusciranno a ricaricare la batteria lfp da 44 kilowattora in 26 minuti dal 20 all'80 per cento con un picco di ricarica massima di 100 kilowatt sì ecco forse avrei preferito una ricarica in ac a 11 kilowatt però non si può avere tutto dalla vita e il tappo inutile si può rimuovere senza problemi però guardate che carino è a forma di gattino beh una scemata la dovevo dire nel video no se no non ero contento. Ah e la porta di ricarica è situata al posteriore sinistro. Ah è un'ultima cosa prima di andare a fare l'esperienza di guida non ha la pompa di calore me lo avete chiesto in tanti e dato che ha cominciato a piovere mi sono fiondato dentro in abitacolo per cominciare la nostra parte di guida la parte probabilmente che potrebbe interessare a tanti di voi che già conoscete il modello ma che però proprio aspettate di conoscere le prime impressioni appunto per quanto riguarda la guida perché ancora nessuno fondamentalmente era riuscito a portarla in strada in una vera strada. Dividerò questa parte di guida in diversi capitoli cominciando dalla tenuta di strada ora qui siamo su una strada abbastanza scorrevole quindi a velocità moderata 70 km orari e vi devo dire ragazzi che grazie alle sospensioni advanced comfort che sono appunto disponibili in entrambe le versioni quindi sono montate di serie l'auto si guida molto bene è molto comoda e anche con queste gomme come abbiamo detto prima delle good ear su un cerchio da 17 la trovo decisamente buona anche come dinamica di guida e si tenuta di strada. Facciamo un appunto sulle sospensioni questa è un'auto nata principalmente per la città e il fatto che abbia delle buone sospensioni morbide ma non troppo non fa rumore ad esempio sui san pietrini o comunque sulle buche un pochino più sconnesse che possiamo trovare anche nel nostro paese e la cosa non è affatto da sottovalutare. Chiaramente non sono delle sospensioni adattive ma hanno un particolare smorzamento che rende la guida di quest'auto veramente molto confortevole. Quello che mi piace particolarmente è che non si ha un effetto di rimbalzo continuo ma diciamo che viene attutito bene il colpo sembra quasi di andare su un tappeto volante e si troendo a questo punto fa scuola è come quasi se le avesse inventate lei le sospensioni. Passiamo alla questione ora insonorizzazione ora probabilmente sentirete dei rumori di fondo perché comunque piove e la pioggia si sa rende tutto il viaggio un pochino più rumoroso però devo dire che a diverse velocità l'ho testata anche a 135 km orari che è la sua velocità massima l'auto è decisamente ben insonorizzata non si sente affatto il rumore del motore elettrico quindi il classico sibilo in accelerazione non c'è e oltretutto ci sono anche pochi frusci dati appunto dall'aerodinamica molto spesso arriva da qui davanti in zona specchietto tutta una serie di frusci e lievi fischi che si sentono qui devo dire che sono molto attenuati quindi dal punto di vista di insonorizzazione secondo me ci siamo quando però andiamo su un particolare terreno ad esempio prima in tangenziale ero su asfalto drenante lì si sentiva parecchio dipende chiaramente anche dalla gomma montata qui non abbiamo una gomma di primo impianto per auto elettriche e quindi sicuramente magari nel vostro prossimo treno di gomme provate a pensare anche di acquistare una gomma che al suo interno abbia un sistema di smorzamento del rumore già che parliamo di rumore parliamo di impianto audio l'impianto audio devo dire che è veramente buono per il prezzo che si ha di questa vettura l'ho provato ad ascoltare con la mia musica in spotify attraverso apple carplay e devo dire che anche con volume molto alto anzi diciamo al massimo non ho sentito affatto l'impianto gracchiare quindi non male non abbiamo un impianto audio firmato ma comunque devo dire che da delle buone soddisfazioni a livello multimediale ovviamente se scegliete la versione max avrete anche la radio dub la possibilità di utilizzare la chiavetta per ascoltare la musica e poi apple carplay e android auto con il quale potete andare a scegliere la vostra applicazione preferita parliamo ora dell'infotainment come dicevo in apertura l'infotainment è abbastanza semplice non c'è niente di particolare nessun setting o cose strane non potete impostare l'auto in maniera diversa devo dire che il navigatore è molto semplice la voce come potete sentire è una voce in italiano di donna decisamente poco intrusiva e oltretutto posso andare a regolare anche il volume sicuramente da segnalare il fatto che all'interno del navigatore già mi vengano indicate le stazioni di ricarica più vicine e quando vado a fare una pianificazione c'è la possibilità ovviamente se non arrivo con la mia batteria di andare a selezionare dove fermarsi per ricaricare e si è abbastanza spartano come sistema però funzionale ora parliamo degli adas ne parliamo poco perché nella versione che io sto andando a guidare sono stati completamente disattivati si perché stanno attendendo l'aggiornamento software che è stato praticamente fatto per le versioni diciamo già da catena di montaggio quindi su quest'auto ancora non può essere installato l'aggiornamento nella versione max disponiamo di cruise control adattivo mantenimento di corsia nella versione io invece disponiamo delle solite cose diciamo a livello di sicurezza come la frenata d'emergenza eccetera per la questione sicurezza poi non sono abbastanza preparato vedo che ci sono svariate etichette degli airbag abbiamo l'airbag laterale ad esempio l'airbag sul volante sul passeggero le barre anti intrusione eccetera eccetera ma vorrei attendere la prova di euro in cap che diciamo è un ente indipendente per capire quante stelle euro in cap avrà quest'auto quindi in caso iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto perché ne parleremo sicuramente in futuro per quanto riguarda la visibilità devo dirvi che è molto buona sia anteriormente che posteriormente gli specchietti non sono piccoli anzi riesco a vedere bene anche io che sono parecchio in avanti oltretutto con la seduta alta di quest'auto riesco perfettamente a vedere il cofano l'inclinazione dell'unotto posteriore è abbastanza verticale e infatti abbiamo anche un tergicristallo posteriore la cosa che ho notato che non mi è piaciuta particolarmente è che in modalità di riposo il tergicristallo posteriore sta in diciamo verticale veniamo ora al quadro strumenti qui davanti abbiamo un quadro strumenti dove viene indicata perfettamente e molto in grande la percentuale di batteria che è a sinistra in centro abbiamo la velocità poi l'indicazione della marcia e anche un'indicazione di quanto stiamo andando ad utilizzare il motore già che ci siamo parliamo di frenata rigenerativa la frenata rigenerativa devo dire che è buona adesso a 50 km orari se io vado a rilasciare completamente l'acceleratore la parte diciamo di charge si riempie tutta quindi riesco tranquillamente a fare una guida in simil one pedal drive il che vuol dire che riuscirò comunque a ricaricare bene la batteria e non dovrò usare spesso il freno ovviamente però non è una pedal drive completa e questo un po' chiaramente mi dispiace se poi volessi diminuire la frenata rigenerativa attraverso il pulsante c che sta per comfort il sistema mi dà meno freno motore e la cosa non guasta magari quando ad esempio si fanno dei viaggi in autostrada qualcuno di voi su instagram mi ha chiesto di parlare dei consumi al momento con questa versione del software non riesco a capire quanto l'auto consuma magari a fine video farò un conto di quanti chilometri ho fatto e vi dirò esattamente quanta batteria è rimasta il discorso frenata l'avevamo fatto all'inizio quando ho parlato dei freni a disco e non a tamburo beh devo dire che se dovete fare una frenata di emergenza i freni ci sono e oltretutto il freno non è spugnoso va a pinzare in maniera molto decisa non è né troppo duro né troppo molle quindi mi piace devo dire che dà un buon feeling sempre parlando di feeling parliamo invece dello sterzo e lo sterzo è un po' troppo morbido però chiaramente non ci si aspetta niente di diverso da un'auto pensata per la città e devo dire che questa forma di volante oltretutto la trovo comoda e nella posizione 9 15 o 10 e 10 comunque è confortevole questo form factor mi piace oltretutto avendo due razze mi dà la possibilità anche di riposare un pochino le braccia andando ad unire le mani qui sotto i pulsanti sul volante sono tanti ma sono decisamente grandi danno un buon feedback non abbiamo quei fastidiosi pulsanti touch con la razza di destra andiamo a modificare tutta la parte multimediale con la razza di sinistra invece andiamo ad attivare e disattivare o impostare i vari adas per quanto riguarda poi i comandi dietro al volante sulla destra troviamo i comandi per i tergi cristalli e sulla sinistra troviamo invece le luci e le frecce e se ve lo state domandando il clacson fa questo rumore ora che vi ho parlato un pochino della plancia dei comandi eccetera eccetera vi parlo dei sedili questa configurazione di sedili a me piace devo dire che in queste due ore che la sto guidando non ho trovato particolari disturbi la schiena è ben supportata i fianchetti sono comunque diciamo abbastanza duri quindi ti mantengono bene dentro nella seduta non è un'auto sportiva quindi immagino che non farete grandi curve veloci per quanto riguarda poi il pedale dell'acceleratore il feedback che si ha in accelerazione è più o meno quello di una termica non si ha un grande strappo dal punto di vista della potenza ha un kick down che diciamo che rilascia tutta la parte di potenza del motore per quanto riguarda poi gli spazi interni devo dire che sono abbastanza generosi soprattutto mi ha sorpreso il porta oggetti porta oggetti che può contenere tranquillamente il libretto un bel libro di istruzioni e qualche altra cosa quindi diciamo che ha dimensioni consone per trattenere un po tutto quello che vi serve e che rimanga sempre perennemente in auto qui davanti poco sopra il cambio abbiamo due porta bottiglie e anche il porta bottiglie diciamo lato portiera ci si può stivare tranquillamente una bottiglia da un litro per quanto riguarda la velocità massima 135 chilometri orari ci si arriva senza nessun grosso problema e oltretutto alla velocità massima non è affatto rumorosa e la cosa non è male ora qui stiamo andando chiaramente su un asfalto che come dicevo prima non è drenante non ci sono frusci particolari e devo dire che non ci sono vibrazioni quindi anche a velocità massima l'auto non vibra per quanto riguarda poi l'accelerazione da 0 a 100 non ho potuto ancora fare un test partendo da fermo il lag in accelerazione ragazzi c'è la cosa non è che mi sorprenda più di tanto è però diciamo che si sente comunque quando entra in coppia il motore ossia quasi subito che l'auto spinge se poi andiamo anche a fare il kick down si sente un pochino di più la cosa che mi ha colpito di più è che in accelerazione l'auto non va troppo ad alzarsi sul davanti non sento le ruote che stridono e quindi diciamo che il sistema è stato ben tarato è un peccato però che la velocità massima sia limitata ai 135 chilometri orari mi sarei aspettato un 150 anche perché secondo me il motore può dare ancora tanto ricapitolando la trovo un'auto comoda buone le sospensioni buoni i sedili il motore certo è un auto che ha 113 cavalli diciamo che la velocità massima poteva essere espressa un pochino meglio il lag in accelerazione non mi è piaciuto tanto ma ci si fa l'abitudine la frenata devo dire che è buona l'insonorizzazione anche il sistema audio mi è piaciuto la frenata rigenerativa ovviamente se fosse stata più incisiva avrei preferito ma comunque ritengo che se si anticipano bene le curve e le rotonde ad esempio l'utilizzo del freno sarà veramente minimo non ha la one pedal drive non mi piace il fatto che abbiano ancora utilizzato la chiave e avrei preferito un pulsante start e stop quindi avrei preferito diciamo una sorta di keyless ma però ovviamente per il prezzo che ha tutte questa serie di cose ok sono trascurabili un peccato che non abbia la pompa di calore la pompa di calore però è una questione abbastanza diciamo personale è vero il sistema pompa di calore è il qua al 40 per cento più efficiente di un sistema normale poi ovviamente il prezzo sarebbe salito una pompa di calore costa 1200 1500 euro però è sempre meglio averlo a disposizione come optional poi uno magari sceglie qui non c'è neanche come option altra cosa che mi dispiace non aver potuto provare è la ricarica non ho potuto provare la ricarica ovviamente anche perché per provare la vera potenza di ricarica per riuscire a vedere il 100 kilowatt che tanto reclamizza citroen bisognerebbe portare lo state of charge quindi la percentuale di carica della batteria secondo me sul 10 per cento e siamo al 70 per cento in questo momento non credo che ci riusciremo mai però rimanete sintonizzati perché sicuramente appena mi arriva farò tutti i vari stress test la domanda fatidica vale 28.400 euro in questa configurazione secondo me i punti chiave sono il fatto che abbia una batteria lfp e che abbia una ricarica a 100 kilowatt non si trovano auto con queste caratteristiche unite anche ad un motore così performante ea delle sospensioni ottime sempre contando il fatto che comunque le auto elettriche costano di più delle versioni termiche invece per la versione yu quella da 23.800 euro farò un video dedicato che uscirà nelle prossime ore se andate ad acquistare citroen c3 con gli incentivi secondo me fate bingo perché comunque è un'auto che vale i soldi spesi ma con 6.000 euro di sconto oppure anche 13.750 tanta roba considerazione finale e poi chiudo può essere un'auto per una famiglia secondo me è abbastanza spaziosa per una famiglia una seconda auto sicuramente sì una prima auto magari con qualche limitazione perché chiaramente se si fanno dei viaggi molto molto lunghi non credo che in autostrada riesca a fare ad una velocità media di 135 130 chilometri orari più di 200 chilometri ma per quello ragazzi attendete la mia prova dei 1000 chilometri che se raggiungiamo 1000 like a questo video farò con citroen e c3 ve l'ho promesso e quindi arriviamo a 1000 like anzi 3000 3000 like perché sarà una sfacchinata dalla mamma grazie ci vediamo al prossimo video